Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove ci sono code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e code tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. Sulla FIPILI code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandici verso Firenze. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze per la tramvia stasera, in orario 21, mezzanotte e 30, le fermate della linea T1, Fortezza e Val Fonda non saranno servite. In questo tratto il trasporto sarà garantito dai bus sostitutivi. Si ricorda che oggi è in alto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico. Info e aggiornamenti sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!